Ricordati di vivere. Oggi riparto un po' dalla mia filointervista, quel mazzo di carte in cui ci sono raccolte tante domande che vanno a definire per ciascuno di noi cos'è la felicità, ma anche a cercare di definire come questa felicità trovi possibilità di realizzazione o meno in uno stile di vita fatto di tempo, fatto di denaro, fatto di relazioni, fatta di solitudine, fatta di capacità di stare nel silenzio, fatto di tanti aspetti che in realtà entrano ogni giorno nella nostra esistenza e rendono più o meno possibile la nostra felicità. Ma intanto dobbiamo chiederci cos'è per me la felicità, quando potrò definirmi felice, perché anche questo apre ovviamente a tutto una riflessione che necessariamente ci mette in gioco rispetto alle nostre aspettative, rispetto alla nostra libertà, alle nostre responsabilità, rispetto a tantissime dimensioni sulle quali spesso non ci interroghiamo, rischiando di perderci poi in un mare immenso, fatto di tante cose in cui a volte non distinguiamo neanche più ciò che è urgente da ciò che è importante, ciò che conta da ciò che non conta e su questo tornerò senz'altro in un prossimo video. Comunque, tra tutte le varie domande che compongono la mia filointervista, ce n'è una in particolare che recita così. Chi è per te il saggio? E già, è una grande domanda. E è felice, secondo te? La filointervista l'ho portata di recente in un gruppo di formazione sulla consapevolezza del vivere e morire, un gruppo di esercizio, un gruppo di riflessione, in particolare era organizzato dall'Unione Buddhisti Italiani, che ormai ogni anno mi chiama anche per aprire questo corso, proprio per dare un'impronta più filosofica e laica a qualcosa che poi giustamente per loro si approfondisce invece nella direzione dell'approfondimento della visione e della pratica buddista su questi temi. E qualcuno ha sorriso di fronte a questa domanda, perché ha detto, ma già chiedersi chi è il saggio effettivamente non è poco, perché ciascuno cerca di ambire a una sorta di saggezza, a una sorta di pacificazione, a una capacità appunto di vivere la vita con uno sguardo equilibrato, ma chi è per te il saggio? Quale figura? Quale modello? Quale idea? Che sia però percorribile, che diventi fonte di ispirazione e non invece fonte di raggiungibilità. Filosofia è l'amore per la saggezza, non già la saggezza. Forse la saggezza non è per noi, forse è davvero una tensione costantemente da praticare, da ricercare, da esercitare, ma verso quale direzione? E questa è la prima domanda. Ma la seconda domanda è il saggio, quando abbiamo capito chi è? È felice? E questa domanda, quando l'avevo inventata, l'avevo scritta appunto nella costruzione delle carte della filo intervista, andava un po' nella direzione del fatto che io penso che la consapevolezza un po' sia una fregatura. Cioè non farei cambio con la mia vita e col mio continuo pormi domande, vibrare con le cose che accadono, risuonare nella bellezza e nel dolore delle persone. e non posso farne a meno, forse anzi questi video per me servono anche a mettere ordine un po' tra tutte le cose che sento, che mi interrogano, che mi spiazzano, che mi affascinano, che mi nutrono. Però a volte penso, forse le persone inconsapevoli a volte sono più felici? E tante persone a volte mi fanno questa domanda? Perché le cose gli scivolano più addosso? Perché si fanno meno domande? Perché vivono in maniera più diretta, senza troppe fatiche, senza troppe, perdonatemi il termine, menate? E allora, io l'ho già detto, io non farei cambio con altri, non vorrei essere inconsapevole, adoro, ormai, o forse semplicemente mi sono abituata, il mio modo di funzionare, il mio modo di essere, il mio modo di vedere, il mio modo di cercare di direzionarmi in un percorso che so essere spirituale, perché coinvolge completamente la mia persona, il mio modo di stare al mondo. Ma sento che questo ha profondamente a che fare col senso che la vita ha, che ha per me e che forse ha in generale. E forse ormai sono anche abituata e quindi affezionata alle mie malinconie, alla mia necessità che è diventata un'abitudine di prendermi cura delle persone, di prendermi cura di me, di soffrire quando mi sento impotente, di avere sempre più bisogno in realtà però poi di tempi in cui sono ritirata e faccio fatica forse anche a rispondere a tanti messaggi, cosa che infatti un po' sto smettendo di fare, o avere una vita sociale troppo ampia e troppo disordinata. Sento che sempre di più un po' mi ritiro, ma perché sento che quello che faccio continua ad avere un senso. Ma questa è la mia storia e la tua qual è? Cosa vuol dire per te essere saggi e come questo può però stare nella visione di una felicità? Perché quello che io stavo descrivendo pur nella malinconia, pur a volte nella fatica, per me in realtà è fonte di grandissima bellezza, di grande meraviglia, di grande senso della vita, di grande possibilità di sentire di essere al posto giusto nei momenti giusti e quando non lo sono e sento la sofferenza, l'inquietudine, avere la voglia, l'abitudine e forse finalmente anche un po' la strada per cercarla quella quiete, per cercare quella pace, per cercare quel senso quando tutto urla in modo che il senso apparentemente non ci sia. E allora l'invito è chiediti come vuoi essere saggio o saggia, secondo quali fonti, quali ispirazioni, quali strade, quali esercizi, quale stile di vita e come in tutto questo essere felice, nonostante la saggezza ti porterà a vedere oltre alla meraviglia il dolore, oltre alla vita la morte, oltre alla gioia, la sofferenza, oltre alla luce e anche l'oscurità. Ma questo vorrà dire che vedi la vita, che vedi te stessa o te stesso integralmente e allora quello renderà possibile armonizzare tutto ciò che ci è dato di essere e tutto ciò che ci è dato di vivere. Buona meditazione, ci vediamo giovedì.